Bentornati su MyFootballJersey. Scusate per la voce ma devo dire che non sto benissimo. Questa che vedete comunque è la prima maglia del Bocaa Junior in edizione player, l'edizione fan, l'avevamo già vista e trovate qui in alto la recensione. Scusate per la voce ma. La maglia è molto bella, tra l'altro l'edizione player dà un tocco in più quel discorso tecnico, il fatto che sia un po' più addillata, i tessuti più brillanti, che ve la consiglio assolutamente. Il costo lo vedete qui sopra? Beh, a questo prezzo secondo me dovete prendere. Qua sotto in descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Andate a vedere perché insieme a questo trovate tantissime altre offerte che vi attendono. Ora vi lascio la parte finale. Prima però non mi dimenticherò mai di dirvi. Iscrivetevi al canale. È un piccolissimo gesto ma che ci aiuta a mostrarvi recensioni come questa tutti i giorni. Per oggi è tutto. Alla prossima!